Successo per l'edizione 2024 di Ecologica, l'evento organizzato da Espansione TV nella sua sede in via Sant'Abbondio a Como. Un'iniziativa dedicata alla sostenibilità con al mattino un convegno sulla città del futuro che hanno provato a immaginare docenti universitari, architetti, manager e ingegneri. Al pomeriggio l'auditorium di ETV si è trasformato in un laboratorio didattico per i bambini che hanno imparato il concetto di sostenibilità divertendosi. Hanno infatti realizzato un vasetto di argilla che hanno poi portato a casa. Il maltempo della prima parte del mattino non ha dunque scoraggiato le persone che hanno voluto seguire il convegno o la sostenibilità nella città del futuro. Tutto esaurito nell'auditorium con spettatori di ogni età che hanno ascoltato con grande interesse gli interventi dei relatori presentati dalla giornalista Francesca Galbiati. Ma non solo, anche al pomeriggio le iniziative proposte sono state apprezzate con molti automobilisti che hanno preso parte ai test drive e i loro bambini che nell'attesa hanno partecipato ai laboratori. Una giornata di riflessione e di esperienze dunque, un seme per provare a pensare ad una città migliore, più sostenibile e ad un nuovo modello di centro urbano.